Se tutti insieme riusciamo a partire dalle proposte e dalle idee delle forze imprenditoriali e culturali della città per un rilancio del turismo. A Palazzo Trinci si è parlato di incoming strategie turistiche per Foligno nel convegno Sguardo sulla città di Foligno e la Valle Umbra, considerazioni e proposte organizzato dall'Associazione Culturale RAEventi con il patrocinio del Comune di Foligno e la Regione dell'Umbria, in collaborazione con Coop Culture Pro Foligno e tutte le associazioni di categoria, quali Confesercenti, Confartigianato, Confcommercio, Federalberghi, Associazioni Industriali e Bed & Breakfast. In realtà i dati resi noti dal servizio turismo della Regione dell'Umbria parlano già di una notevole ripresa per arrivi e presenze a Foligno, con il segno più in entrambe le voci rispetto al 2014, più 12,2% per gli arrivi e più 8,9% per le presenze. A gonfie vele il settore extra alberghiero dove l'incremento è rispettivamente del 30,7% e del 14,6%, numeri meno prodigiosi per gli alberghi che comunque registrano rispettivamente un più 3,7% e un più 4,5%. Dunque un trend decisamente in ascesa per il turismo folignate cui era dedicato l'incontro di sabato allo scopo dichiarato di trovare idee al fine di sostenere e consolidare la città di Foligno e la Valle Umbra come città e territorio a vocazione turistica dove la centralità, il paesaggio, l'accoglienza, l'ospitalità, la qualità sociale delle comunità locali, la genuinità dei prodotti e dei piatti tipici e le eccellenze agroalimentari completano e arricchiscono l'identità di un territorio che costituisce senza alcun dubbio offerta e attrattiva per un soggiorno tranquillo a contatto con le radici autentiche dell'Umbria. Studiando, realizzando e promuovendo prodotti turistici con varianti alle mete tradizionali il territorio, come sostenuto dall'Associazione Raeventi, può senz'altro proporsi come competitor purché sappia formulare delle proposte interessanti e soprattutto riesca ad offrire prodotti il cui money for value, ovvero il rapporto prezzo qualità, sia accettabile e compatibile con altri territori ed altri paesi.